Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo in un nuovo vlog Ma non un vlog come lunedì Ma un vlog per annunciarvi un attimo Il fuck you time che farò praticamente lunedì E' anche un vlog per testare la nuova webcam che mi è arrivata ieri E' una Logitech C920 Ditemi qui sotto nei commenti come mi vedete Adesso sto guardando la fotocamera Qui la webcam Non sono molto abituato E non mi vedo più io Perché il computer sta dall'altra parte E devo guardare lì per vedermi Ditemi come mi vedete Lo sto registrando in 720 Può anche registrare in 1080 In full HD Però non lo faccio perché occuperebbe tantissimi giga Ragazzi Allora ragazzi in questo vlog Devo annunciare questo fuck you time Siccome praticamente nello scorso vlog di lunedì Ne avete fatto una maria di domande Adesso sono andato il sole bastardo Siccome non ce la faccio a risponderle tutte Nel vlog di lunedì E ho pensato di fare un altro Il mio secondo fuck you time Perché il primo era quello dello speciale di 900 iscritti Ho pensato di fare un secondo fuck you time Lunedì ragazzi Solo con le vostre domande E farò vedere solamente le fanart Quindi fanart e domande Che ne pensate? Scrivetemi qui nei commenti Se va bene Per chi non mi ha fatto la domanda lunedì Delle persone che stanno sotto al video Me le fanno qua sotto praticamente Ma solamente le persone che non mi hanno fatto le domande Se qualcuno che mi vuole fare una domanda Me la scrive qua sotto Così prenderò sia le domande dello scorso video Che queste domande Quindi ragazzi Questo era un breve video Scusate se durava poco Ditemi ovviamente qua sotto Come mi vedete Cosa ne pensate di questa webcam Sabato arriva l'unboxing E il test ovviamente col microfono Adesso il microfono mi sentirete bene Perché sto usando quello dell'iPhone Perché quello della webcam Fa veramente schifo Cioè non è proprio cosa per registrare E non pensavo che era così Perché comunque Ha due microfoni E pensavo che la qualità Doveva essere migliore Quindi ragazzi Tenetemi qua sotto Se mi vedete bene Se il mio viso è nitido Eccetera eccetera Commentate con le domande Per chi non le ha fatte Nello scorso vlog Lasciate un like a questo video Condividete il video Sui vari social network E seguitemi su Instagram A ChiocioAlexZGaming Perché lì metto sempre foto Ragazzi E lasciate un like Sulla mia pagina di Facebook Quindi ragazzi Da questo video è davvero tutto Noi ci vediamo Al prossimo video ragazzi Bella